eccoci ragazzi per questa quinta tappa quinta quinta o quarta quinta quinta quarta non mi ricordo più il giorno va bene comunque e partiamo da questo posto un po tetro e lugubre oggi oggi è la tappa clou del viaggio adesso parto controllo aver qua tutti i pezzi telefono ce l'abbiamo portafogli con le carte ce l'abbiamo prima che mi sparisce ancora qualcosa io ovviamente visto che dobbiamo fare il board fra poco prendo anche i documenti così ce l'abbiamo qua tutto ok eccoci ragazzi siamo vicini al board al confine di calafat calafat eccoci ragazzi si sto registrando siamo in romania ufficialmente e adesso andiamo verso la transfagarazan via la steppa rumena di non c'è niente qua si vede che qua c'hanno spazio ragazzi c'è chilometri chilometri senza niente poi c'è il paese che magari va avanti tra quattro chilometri e tutto dritto poi di là non c'è non è che si astende per va che bello qua ragazzi spettacolo guardate qua quella lì dovrebbe essere krajofa quella città qua c'è la della città sovietica anche qua andate ste piazze tipiche sovietiche eccoci ragazzi siamo a pittesi prittesi c'era un po' di traffico ecco nella causa col carrettino eccoci ragazzi il paesaggio incomincia a diventare diverso vedete e fra un po' in teoria si comincia a salire verso la Transfagarzan piano ragazzi si trasforma il paesaggio che bello inizia anche la strada a essere pian pianino più divertente tutto a piccoli step qua trasforma il paesaggio la che storia fisca ha trasformare jen trasformare jen la che storia fisca eccoci qua transfacarajan open 90 via che si va si parte è la spazio ragazzi c'era l'orso l'ho visto dopo l'orso c'era l'orso porco giudo che bella acqua che spettacolo c'è l'orso c'è l'orso con il rossettino piccolino si dopo si incazzano con me porco giuda porca vacca te spettacolo ragazzi atti atti o è Sì, 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 sì. Oddio, paura, paura, porco cane, fagli la foto però, ma sbenci la diga ragazzi, spettacolo, vabbè mi fermo qua. Spettacolo ragazzi, c'è un sacco di gente quindi vamonos, wow. No. 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 Grazie a tutti. Wow, che roba, che roba ragazzi, cascatella. Fantastico ragazzi, fantastico, bello, guarda che spettacolo di qua. Oh come sale, minchia. Davvero spettacolare. Uno spettacolo, bellissimo. Transfagarajan ragazzi. Ehi, 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 va su ancora, eh. Ma siamo ancora arrivati. Spettacolo. Ah, che bello. Lì c'è la gallery. Spettacolo, spettacolo. Ehi, eccoci qua. Veste, un po' che freddo. Wow. Wow. Oh, mi sa che c'è, c'è anche dall'altra parte un bel pezzo bello. Dovemmo essere arrivati in cima ragazzi. Che casotto ragazzi. Che ragazzi, si scende. E' molto, molto commerciale come roba su qua. Vabbè, è bello, è bello, eh. Adesso qua c'è una foschia incredibile. Cavolo, peccato che non si vede niente. Mi sa che c'era un bel panorama anche di qua. Vediamo se a scendere ci sono gli orsi anche di qua. Ehi, che spettacolo. Bellissimo da qua. Spero che abbiate visto qualcosa anche voi. Transfagarazan. Spettacolo. Rai Castello. Rai Castello. E' bellissimo anche da questa parte, eh. Anzi, forse più bello di qua. Meno per ora. A parte l'asfalto che è un po' corrugato. O' corrugato. O' corrugato. O' corrugate. Com'è che è un po' corrugato. O' corrugato. O' corrugato. O' corrugato. O' corrugato. Ma stanno mettendo in sicurezza tutto. Stanno rettando tutto. comunque molto bello anche da questo lato ho visto l'altra parte è spettacolare ma guarda che casino quanto traffico c'è sarei già tornato indietro io così sarei già tornato indietro non è possibile cioè mi è andata bene tra due chilometri minimo due o tre chilometri di coda questo video però cioè ragazzi spero che vi piaccia questo video perché sono venuto qua a posto per fare la Transfagarajan transfagarajan grazie solo per voi quindi se non sei ancora iscritto iscriviti al canale perché guarda dove vi porto vi porto con me vi porto con me in questi posti con i panorami belli gli orsi i salsi le luci tra la sua garage la sua garage la sua garage le luci gli orsi ah ma che spettacolo guardi qua che spettacolo guarda che bello con la cascata giù che bella bella mostri adesso per non mi fermavo qua e ormai sono arrivato eccoci qua ragazzi sono quasi arrivato alla sistemazione di stanotte questa notte qua in zona in teoria a un chilometro ai piedi dei carpazzi questi monti eccoci qua